Musica Manzi Domenico Lavaggista de Teller Autolavaggio Manzi Tenacina, Provincia di Daniele La febbraio di 2021 Mi aspetto che prima o poi venga riconosciuto un codice a tempo per questa produzione Il mio cavallo del battaglia sono gli interni, mi piace farli tornare a Nuova Vida Ho conosciuto Ida tramite colleghi Passione Nel mio futuro vedo un continuo aggiornamento per migliorare e offrire nuovi servizi Sono disposto a fare quello che serve per far crescere i dettagli che vengono in Italia La pala da Manzi La pala da Manzi La pala da Manzi